Amici, oggi un nuovo episodio della serie World Tour di Minecraft, che è sempre difficilissimo da dire, voi non avete idea, dirlo in modo veloce, è difficilissimo, di Minecraft, nel quale esplorerò, vedete che poi uno si impapina, esplorerò i vostri mondi, fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo, anche se in realtà il primo episodio vi è piaciuto tipo un casino, e oggi appunto esploriamo i vostri mondi, fidatevi, saranno una figata totale. Nel dubbio vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e signori, iniziamo. Ok, allora, siamo spawnati direttamente nel mondo di Colorado Express, che salute, era un po' che me lo chiedeva, è perfetto, esatto, stavo per dire andiamo in creativa, però siamo già in creativa, volevo dare un'esplorazione dall'alto, figo, sembra molto interessante, però ora diciamo che per scoprirlo al meglio ci dirà lui dove andare, quindi seguiamo il nostro Virgilio della situazione. Qui c'è un teleport per una zona molto interessante, ok, uh, figo, allora, iniziamo col magazzino, quant'è bella l'armatura d'oro del cavallo, oddio, ma sapete che forse è anche meglio di quella di diamante. E qua ha diviso il tutto nelle varie ceste, c'è pure un gattino, il letto e il campfire, che fa sempre la sua bella figura. Però salendo si scoprono tipo un botto di cose, ok, molto molto interessante. Ora io mi ho, ok, perfetto, l'avevo già perso, e andiamo, niente, continuiamo ad esplorare, comunque per ora molto molto bello. Non so sinceramente per quanto si espanda il mondo, però per ora mi sta piacendo molto. Qua c'è anche un'armatura di diamante, sarà tipo stra potenziata, di fisso, ma gliela lascio lì per evitare danni. Ok, scendiamo, bello, bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto, bravo Colorado. Una sala degli incantesimi tipo stra nascosta, stra imboscata, bellissima, e qui, oh è la mia farm di pesca, oddio, ma sapete che è la mia farm di pesca? Sta spopolando, grande Mass, bravi, bravi tutti quelli che l'han fatta, e bravo Mass che l'ha creata sostanzialmente. Ovviamente ho cercato nei peggio YouTube indiani, però comunque, bravo Mass. Uh, portale del Nether in parte al magazzino, vuoi entrare? Non entriamo? Non entriamo. Ok, magari non ha ancora fatto dentro niente, non lo so, qua c'è il cavallo che vedevamo prima. Il cavallino si chiama, tra l'altro, Fulmine, esatto come il mio cane, non so a quanto interessa, però un saluto al mio cane che so che segue sempre i miei video. Più o meno. Ah, oddio, che figata, no, è un totem. È chiaramente un totem, e qua tra l'altro ci sono anche tutti i teleport per varie cose. Esatto, è un villaggio degli indiani, no, bellissimo, che bella idea, bravo, bravo. Mi è piaciuta un botto, bravo Colorado. Che bella, allora, io non so come si fa. L'ho sempre visto, ma non so come si fa. Scrivetemi nei commenti. No, mi sono teletrasportato fuori. Ah, ok, vabbè, fa niente, ok, ci ha teletrasportato. Dicevo, scrivetemi nei commenti come sbloccare le varie cartine del mondo, perché è una cosa che ho sempre voluto fare, ma non... sinceramente non sapevo come fare, non mi sono neanche mai informato. Qua è un teleport per un'altra zona di... non lo so, ora ci farà vedere. Uh, che figo l'entrata, bello sta entrata. Vediamo cosa ci riserva, la casa nell'albero, bellissima. Watch wow, watch wow, un nuovo termine appena coniato da me. E qua, vedete già il nuovo crafting per appunto potenziare l'armatura in nederite. E il tavolo da cartografo, ah, forse col tavolo da cartografo. Ah, non lo so, non lo so, vabbè, lo saprete voi meglio di me, me lo scriverete nei comments. Vediamo di qua che c'ha un'altra zona bellissima tutta sugli alberi, con appunto un leggio. Che figato, ma sapete che metto tipo il diario di bordo? Ma sapete che quasi quasi lo faccio nella mia vanilla? Mi è venuta in mente una bella idea. Bravo Massa. Vediamo dove ci porta il nostro Virgilio, in nuove zone inesplorate. Comunque per ora mi sta molto piacendo come mondo. Diciamo che è molto vasto e ci sono tantissime cose. Non so se l'ha inventato lui, magari l'ha presa da qualcuno. Qua c'è un'armatura mezza oro, mezzo ferro. E tutta una zona un po' particolare. È bella, anche questa zona molto carina. E si dirama in questa caverna. Devo abbassare un po' l'audio perché mi stava distruggendo letteralmente i timpani. Quindi non vorrei diventare sordo a vent'anni. Anche no, grazie. E quindi mentre io divento sordo, seguiamo il nostro buon Colorado. Colorado che ci porta già a Colorado. Oh, bella sta zona. Tanto io vedo una casa volante. Non mi ci ha ancora portato in quella casa volante. Ma sono molto propenso ad andare ad esplorarla. Però dai, diciamo che seguiamo il nostro ombra di fiducia. Bellissima questa farm di villager. Li sta utilizzando un po' come schiavi. E fa anche bene. Non c'ho niente da dire in contrario. Comunque, guardando i vostri mondi. L'avevo anche detto nello scorso episodio. Che mi invitano ad andare a vedere se ve lo siete perso. Appunto, mi fate venire tantissime idee. Tipo, io ho fatto la testa del creeper. Queste sono le tre teste degli altri animaletti. Con dentro le farm. No, che figata. Bellissimo. Qua manca quella di pecore. Ma magari neanche c'è. Quasi, quasi. Te la rubo. Bello con la neve. Sarà un caso che sia scesa la neve. Fatto sta che è stupenda. Casettina sull'albero. Tatticissima. E, oh mio Dio, quanto si spande il mondo. Ma sarà fatto a mano? O sarà nato così? Non lo so, non lo so. Ce lo saprà dire meglio il nostro colorado. I nomi sono tipo a stile vichingo. Infatti, ora che ci penso. Anche la sua, come si dice, la sua skin. Sembra molto stile vichingo. Poi magari sbaglio. Però, comunque, me lo ricorda. Oh, questo è il viandante sul mare di nebbia. Signori, cosa vi ho cacciato fuori? È un quadro veramente, che esiste veramente. Il viandante sul mare di nebbia. Cercatelo. In caso vi metto una foto, tipo adesso. Quando uno sa le cose, signori, le cose vogliono essere dette. Proprio italiano correggiuto. E come hai fatto a scendere? Ok, me l'ha fatto lui. Vi giuro, continuerò a non capire come ha fatto. Sono abbastanza triggerato da sta cosa. Ma l'importante è che sia scesi. Qua ci sono un bel po' di libri interessanti. C'è una zona, tipo, super segreta. È abbastanza creepy con questo... Con questa testa di drago. Oh, il uovo. Oh, che figo l'uovo. Bello, bello, bello. Bellissima sta zona. Altro magazzino. Sempre diviso in modo ottimale. Mi sta piacendo questo mondo. E si è organizzato bene. Che comunque ci sono cose segrete interessantissime. E qua si risale. Tra l'altro, nell'altro episodio mi avete scritto come risalire alla veloce. Ovvero, tramite la sabbia delle anime. Ovvero, come fare il getto d'acqua. E qui... Oh mio Dio, c'è da fare il parkour? Sul serio? Ah no, è finto. Ah! Mind blowing. Che figata. Bello, bravo, bravo. Che bello. Oh, guardate sotto. Ma va, che figata. Ma perché i miei mondi in confronto fanno schifo? Vabbè. Qua c'è la farm di poglia automatica. Che ho riprodotto anche nel mio mondo. Quindi bravo, Massa. Almeno una cosa giusta l'hai fatta. E di qua... Che cos'è? Che cos'è? Farm di... Ah, di canne da zucchero. Sempre automatica. Eh, questa è utile da fare. Io ce l'ho ancora manualissima, proprio base, base. Eh, ne ho fatto partire... Eh, ho fatto una cazzata. Non sono stato io, giuro che non sono stato io. Fammi partire. Wow! Ok. Bellissimi minecart. Bellissimi. E qua si va in miniera, presuppongo. Oh, che bello. No, bellissimo. C'ha tipo... Tutte le porte con... Bello. Beh, organizzato bene. Eh, bravo il colorado. Bravo, bravo, bravo. Dà quel sapore di miniera. Però queste porte di ferro di prigione. È molto bello. Bellissimo. E qua c'è una pressure plate che ti teletrasporta, suppongo. Sì. Ok. È un 180. Non so cosa stia a significare 180. In questo momento il canale... Ah, ok. C'è tutto il tuo iscritto. Questo libro l'ha cambiato ogni 20 iscritti. Eh, figo. Bella idea. E se per caso arrivi a mille, eh? Devi cambiare la stanza? Eh, devi cambiare la stanza. O comunque devi allungarlo. Bello, bella idea. Bravo, bravo, bravo. Ah, ogni 20 così ti fa il numero tondo? No, 20-40. Eh sì, ogni 20 così fa il numero tondo. Che figata! Guardate quanto è mastodontica. Ecco, questa è la cosa più utile della storia. La farm di Enderman. Cioè, tipo, è la cosa più utile del mondo. Guardate come fa... Eh, non la so fare. Proprio l'ammetto, non la so fare. Devo cercarmi un tutorial e, ovviamente, riprodurla. Perché questa proprio non so neanche da dove partire. Ah, che carino! Che bello! Bello! Fì, ma che belle idee che avete. Io proprio ste cose non mi vengono in mente neanche proprio a pagarle. Pure con la piscina tipo idromassaggio con le bolle, no? Che figata! Anche questa cosa posso farla tranquillamente. E si estende anche di qua. Ah, una piscina! Boh, che figo! Salto! Boom! Che figo! Ah, e c'è pure un cimitero con un golem a sorvegliarlo. Che figo! Vediamo qua cosa c'è scritto. Halloween Saloon. Sapete cosa mi era venuto in mente di fare? Tipo, per ogni festività, quando capita, di fare una costruzione o un qualcosa. In questo caso, questo è adibito ad Halloween. Aspettatevi delle costruzioni festive. E qua la nave che avevamo visto all'inizio, con tutte le... Eh, esatto, si può entrare. Stavo giusto per dirlo. Con tutte le cose, con un letto volante incredibile. E qui c'era anche la casettina nella neve, con scritto questa, questa. Non so cosa significa, ma va bene. Figata la casettina nella neve, che bello. Bello, mi è piaciuta questa casettina proprio nella neve, molto suggestiva. Nei barili c'è roba, sì, esatto. C'è il compasso, la bussola, più che il compasso. E tutte le robe varie, bello. Ti faccio i complimenti perché è proprio un ottimo mondo. E appunto il chat mi scrive Fina. Buono, complimenti, bellissimo mondo. Proprio stupendo, faccio i complimentoni. E tanto con questa neve che fa l'effetto molto suggestivo, molto figo. Bellissimo. Quindi amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio, come sempre, per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero il 2.45, con un nuovo video. Ciao!